La vigilia di Modena e Entella, mister, partita importante da non fallire, vinte da due sconfitte consecutive, quanta voglia c'è di ripartire subito? Ci voglia di ripartire come sempre, ma soprattutto abbiamo consapevolezza che entriamo nella fase del campionato più delicata, diversa da tutta già la prima parte che abbiamo vissuto, che già è stata irta di difficoltà. Un campionato nuovo dove tutte le partite devono essere vissute come degli spareggi, dobbiamo essere lucidi, calmi, grande coesione di gruppo, quella che c'è tra di noi sia come squadra, come staff tecnico e come società, e sapere che ogni partita dobbiamo viverla e prepararla essendoci l'opportunità di fare dei punti. Ci crediamo, questa partita, questa sconfitta anche col Perugia non ha intaccato minimamente lo spirito di gruppo, abbiamo grande voglia di ripartire e siamo convinti che o domani o comunque in casa noi faremo i punti necessari per potersi salvare in un campionato di 11-12 squadre, veramente molto, ma molto equilibrato. Qualche piccolo problema di formazione, Sforzini come sta? Abbiamo avuto una settimana un po' difficile, dopo lunedì si è allenato qualche giorno a parte, stamattina abbiamo avuto delle buone risposte dalla rifinitura, adesso aspettiamo di vedere il suo risveglio domani mattina e poi decideremo. Un momento molto importante, se ne sono accorti anche i tifosi, saranno un centinaio al vostro fianco domani. Questo fa molto piacere, mi ha fatto molto piacere che nella partita purtroppo persa in casa, direi contro un avversario più forte di noi, il Perugia, la gente, la curva, alla fine la gradinata ha comunque applaudito e quando ti parlavo prima di coesione di tutte le componenti Entella il pubblico ha un valore importante come componente. Mi allaccio a questa tua battuta per l'ultima domanda, il Mondentella domani avrà un altro appuntamento importante, gioca la primavera contro la Sampdoria, sono una gara importantissima anche per loro, non so se vuoi farglielo in bocca al lupo. Ma sempre, io nel settore giovanile ci penso sempre, seguo con molto affetto, al di là che io vengo da quel mondo, ma perché so che in questa società quanto veramente è ritenuto importante. Quindi sicuramente il mister Taroni e i ragazzi che poi abbiamo la fortuna di vivere quotidianamente, perché molti di loro sono sempre con noi ad allenarsi, oltre a fare in bocca al lupo per la partita, faccio proprio in bocca al lupo per tutto, perché poi il settore giovanile non si ferma alla partita a singola, ma si ferma a un progetto, a un percorso che questa società porta veramente avanti.